Non è facile individuare le migliori opportunità di trading durante una seduta, molto spesso i mercati vanno in laterale, hanno delle accelerazioni di tendenza improvvise e veramente a meno di avere nervi saldi di essere sempre davanti allo schermo c'è la difficoltà di riuscire a seguire il mercato correttamente. Ma cosa significa seguire il mercato correttamente? Significa per esempio cercare anche di individuare le migliori opportunità e non è detto che lo strumento che sempre si va a tradare e su cui ci siamo specializzati abbia un mood, una tendenza adatta alla nostra operatività. Faccio un esempio per tutti, se una persona è a carattere rialzista, ovvero si trova meglio ad operare o andando a breakout delle resistenze oppure acquistando i suoi supporti, in vista nel primo caso di una rottura di livello, nel secondo caso invece di un'accelerazione toccati certi minimi, se questo lo applica a un mercato azionario o a uno strumento del mercato azionario che in questo momento è in una tendenza negativa, pensiamo per esempio in questi giorni alla difficoltà che ha la borsa italiana di riuscire a performare e a strappare mentre le borsa americane sono comunque abbastanza sui massimi, questo comporta delle difficoltà. Allora molti dicono io faccio il Fib, io faccio il Dax, io faccio l'Erostox, io faccio il Bund, ma se il Fib, il Dax, l'Erostox, il Bund non sono in giornata, che cosa andiamo a fare? Ecco allora io ho cercato di darmi delle risposte in questo senso e tanto le risposte in questo senso ho elaborato uno strumento che mi permettesse di andare a cogliere delle opportunità ove le opportunità potevano anche non esserci. In effetti non basta predire la pioggia, diceva qualcuno e adesso scopriremo poi chi è, ma bisogna costruire l'arca, ovvero è inutile pensare al mare in tempesta piuttosto che al mare calmo se in ogni caso non abbiamo la barca giusta. E' vero, potremmo aumentare il numero di monitor, potremmo legarci ad una seggiola, specialmente per chi fa intraday, facendo in modo che sulla parte sinistra o destra della nostra scrivania ci sia una macchina del caffè per non assentarsi mai. Ma in ogni caso i mercati moderni sono dinamici, sono veloci, sono tanti, ci sono 47 coppie di valute anche sul più scarso dei broker, ci sono 30-40 indici da seguire e 10 materie prime. E ognuno di questi può essere in maniera diversa, in momenti diversi, profittevole. Allora, al di là del fatto che il buon Warren Buffett, perché la frase è la sua, ci dice questo, è evidente che ci dobbiamo, ci possiamo dotare di un altro strumento. Io, per esempio, ho deciso di costruirmi un software che ottemperasse alle mie idee di trading. Le mie idee di trading sostanzialmente lavorano sui prezzi, sui volumi, sulla volatilità e sulle fasi di inversione precedute. Se inversione ribassista dai momenti di distribuzione, se inversione rialzista dai momenti di accumulazione. Ma come fare a riconoscere questo? Si impazzisce fra mille grafici, 300 piattaforme, si cambia a time frame con la stessa facilità con cui la mattina ci si toglie i vestiti del giorno prima e si indossa dei vestiti nuovi lavati. C'è da uscire pazzi, soprattutto perché il tempo che passa rende comunque la consultazione dei mercati sempre più onerosa, proprio anche in termini di stress. Allora mi sono fatto delle domande e, come direbbe il buon Marzullo, mi sono dato delle risposte. Perché è quindi uno strumento di questo genere? Per un motivo molto semplice. Personalmente, ma oltre a essermi messo nei miei panni, mi sono messo anche nei panni dei trader, della maggioranza di trader che conosco e ne conosco diversi, c'è sempre l'esigenza di capire la navigazione sui mercati, trovare un faro all'interno di un mare che raramente è calmo e quando è calmo c'è da averne anche paura. Allo stesso modo, mi sono reso conto che la qualità del nostro trading, la redditività delle nostre operazioni, al di là di tutti i buoni propositi di money management, parte da un concetto fondamentale, che molto spesso si prendono stop o si fanno operazioni sbagliate o perché ci siamo messi in testa un'idea preconcetta. E allora lì bisogna lavorare sul sistema mentale proprio e non c'è macchina che tenga. Ma molto spesso le macchine possono aiutarci a risolvere le necessità di essere maggiormente concentrati, mentre ogni trader, anche se è professionista, anche se lo fa di mestiere 8-10 ore al giorno, non è comunque scevro dai problemi, dalle necessità della vita quotidiana e dal fatto che anche noi viviamo all'interno di un corpo che il lunedì quando riprendiamo a lavorare sui mercati è sicuramente fresco per aver passato due giorni di riposo in fine settimana, o almeno ci si augura, ma quando si arriva il venerdì siamo tutti stanchi. E quindi la stanchezza, la concentrazione, la fisicità, che non state tutto ha il lavoro di trading, è un fattore da tenere molto presente, sia quando si comincia a avere qualche annetto sulle spalle di lavoro, come il sottoscritto, sia anche quando si è giovani, dove la mancanza di esperienza e l'entusiasmo possono non sempre essere il miglior viatico per operare, per operare bene, per operare con dei filtri che permettono di ridurre i falsi segnali e per operare in maniera tale da prendere anche delle decisioni, sia in apertura che in chiusura del trade, che siano logiche, che siano concrete e che non siano voglio guadagnare 20 pip sull'euro dollaro fra un'ora, perché potrei guadagnarli in 10 minuti come in 15 minuti potrei perdere nel 60, quindi serve una logicità anche nel trading discrezionale. Bene, sulla base di questo allora la dashboard ha avuto una sua nascita, io l'ho chiamata dashboard perché vuole essere proprio un cruscotto, un navigatore satellitare, perché io lo desideravo questo e mi sono posto delle domande che pongo anche a voi che state ascoltando questa registrazione, ma l'avete mai desiderato un sistema che vi possa permettere di avere una guida, nemmeno quando in macchina andate in un luogo sconosciuto sicuramente le cartine oggi non ci sono più, ma ci sono i navigatori sui telefonini e aiutano a trovare anche case sperdute in campagna, l'avete mai desiderato? Oggi non è più un desiderio per quanto riguarda i viaggi in automobile, è decisamente un must, cioè una cosa che non si può non avere, perché vedete quanto è brutto, concedetemi la battuta, quanto è tamarro, puoi fermarsi in mezzo a una strada di una città dove non si conosce nessuno, fermare la prima persona anziana che passa e chiedere scusi, sa dove è via tal dettaglio, e quelli magari non lo sanno e tu sei lì che per i tempi. Però poi c'è la gestione dei trade e molto spesso la gestione dei trade, al di là dell'entrata, che resta per i trade descrizionali sempre un momento anche di grande test delle proprie capacità, della propria esperienza, non sempre è facile a calcolarsi dove mettere per esempio gli stop e quindi dove andare a mettere il target. È vero, con il tempo si impara la volatilità degli strumenti, la volatilità media, ma la volatilità di base cambia. Io mediamente so che nell'anno 2016 il DAX, che nel CFD si chiama GER30, oppure come vedremo di E30, ha avuto una volatilità media a 15 minuti di 17 punti circa. Piccolo problema, la volatilità massima media in alcuni periodi è stata dai 22 ai 26 e in alcuni momenti, fase di grande congestione e lateralità, in 15 minuti il DAX si è mosso ai 12 punti, cioè fra il massimo e il minimo di questo estremo di volatilità c'è due volte e mezzo, quasi tre volte. E io non so se in quella giornata il mio 17 che ho in mente va adeguato, deve diventare 14 piuttosto che 21, non lo so per il target, non lo so per lo stop. Al tempo stesso però quando entro in un'operazione, guardo un grafico e non sono in grado di misurare istantaneamente la forza, i volumi, la volatilità, la direzionalità, la dinamica. Metto mille oscillatori e molto spesso gli oscillatori, pur essendo nella stragrande maggioranza, derivati dai prezzi, danno delle indicazioni discordanti e allora lo risolvo con i time frame. Ma mettendo più grafici, più time frame, più indicatori, io non so se il trend va seguito o abbandonato, perché ho una pluralità di informazioni e queste pluralità di informazioni spesse e volentieri andrebbero invece eliminate. Dovrei togliere dal grafico tutte queste informazioni, rimanere col prezzo nudo, ma a volte il prezzo nudo non mi copia, non mi risponde, non mi accompagna nella correlazione. Ieri, per esempio, 6 febbraio, abbiamo visto un trend sostanzialmente di stabilità rialzo per buona parte della giornata, per i principali future americani, abbiamo visto sull'Europa invece una forte discesa. E da dove lo si vedeva questa discesa? Dal fatto che i mercati avevano rotto chi più chi meno, e anche qui va detto chi più chi meno, il DAX ha fatto un lavoro, il nostro FIB, Fuzzimib 40, ne ha fatto un altro in temi di performance. Chi più chi meno hanno rotto dei livelli, ma il perché lo potevamo sapere? No, avremmo dovuto aprire un grafico dello spread fra Bund e titoli periferici, e ce ne sono tanti titoli periferici. E quindi, purtroppo, o per fortuna, perché questa è anche una grande opportunità, sul trading moderno devo cercare di seguire tante cose. E per seguire tante cose ho bisogno di avere una testa che frulla, frulla parecchio, ma purtroppo frulla di più un processore di una macchina che la nostra testa, non perché ci sono le emozioni, ma perché nel breve ci sono dei limiti, è la capacità di analisi e di elaborazione che poi è diversa. Concentriamoci adesso quindi su questo aspetto. Che cos'è la Lapidari Dashboard? Che cosa fa? Come la possiamo usare al meglio? Come si carica sulla nostra macchina? È una macchina automatica. È questa roba qua che vedete, ospitata dentro la finestra di un grafico, che per comodità ho scelto essere quello di dollaro americano contro yen giapponese. Poi vi spiegherò perché. Indipendentemente dal fatto che vediate H1, non potrebbe essere anche a 5 minuti. Non cambia nulla il fatto che abbiamo preso la dashboard, l'abbiamo ospitata su un grafico e che abbiamo di default scelto il time frame H1. Quello che questa macchina fa, quello che questa macchina fa, è di rispondere alle cose che io desidero sapere. Se io per esempio seguo il DAX da vicino, perché il mio strumento principale, piuttosto che sterlina dollaro, piuttosto che dollaro yen, piuttosto che euro dollaro o oro, io ho bisogno di sapere cosa succede sul mio mercato. E ho bisogno di saperlo subito. E ci sono dei cambiamenti di trend del mio mercato. Ho bisogno di avere un sistema che si adegui, che non pensi, che non abbia opinioni, che non ragioni dicendo per me deve, ma che mi possa suggerire cosa sarebbe il caso di fare, ma che se questo caso di fare è ostacolato da una dinamica modificatasi dei mercati, a partire da un X minuto, da un X orario, la macchina non ragiona, non ci pensa. La macchina deve dire che le cose sono cambiate, piuttosto che deve dirmi cosa fare nella gestione dell'operazione finché non cambiano determinati parametri. Questo mi porta a un grandissimo vantaggio. Oltre al fatto di avere un suggeritore automatico, oltre al fatto di avere un navigatore satellitare con una voce femminile, gaudente, piuttosto che maschile, perentoria, che mi dice di svoltare a sinistra senza pensarci troppo e se sbaglio strada mi dice se è possibile fare in versione AU, ho bisogno che questa macchina me lo dica alla svelta senza perdere mai il segnale del satellite, ma me lo dica in una maniera che mi consenta di semplificare le decisioni che devo prendere e di semplificare, di ridurre lo stress, di stare sempre incollato davanti alla gestione di un trade o sempre incollato davanti allo schermo per analizzare più informazioni e questo è uno stress, è un impiego di tempo che alla fine si fa sentire. Inoltre, cominciando a familiarizzare sull'andamento dei prezzi, all'interno ovviamente dell'osservazione del grafico, familiarizzerò sempre di più su quelli che sono i prezzi che contano, i massimi o i minimi più importanti che in questo caso la macchina prevede, la chiusura di ieri e l'ultimo prezzo battuto oggi, l'everage to range, cioè il range medio che stiamo osservando, in questo momento 135 punti per quanto riguarda il DAX e 94 pip per quanto riguarda l'euro-dollaro, è tanto poco, lo impareremo col tempo frequentando questo dato. Inoltre potrò capire, per esempio, dove sono entrati gli istituzionali, dove sono usciti e qual è un prezzo importantissimo e capirò dove andare a metterci degli allarmi che è per esempio il prezzo di equilibrio, quel prezzo al di sotto del quale aumentano le probabilità che la giornata si concluda con un tono ribassista al di sopra del quale aumentano le probabilità che la giornata si chiuda con un tono rialzista. Entriamo nello specifico del funzionamento della macchina e analizziamo insieme quali possono essere e quali sono le informazioni fondamentali. Innanzitutto, la macchina ci dice qual è la tendenza di oggi. Ad esempio, per quanto riguarda il DAX, usiamo questo come esempio e ciò che trovate in questa lista di strumenti preferiti che ho creato nella parte Favorites c'è una lista di 10 strumenti che nella nostra watch list e nella mia personale sono strumenti che uso per monitorare l'andamento dei miei trade e dei mercati. Io lavoro molto con il DAX e come è noto il DAX in questo momento quota sul G30 11.579-580. La macchina mi dice qual è la tendenza di oggi e mi dice che il trend di oggi è rialzista anziché ribassista come per esempio per il Bund come per esempio per l'Euro-Dollaro e come in parte per l'Oro ma ha una tendenza forte non è un long up le tre tendenze sono up strong buy panic buying ovvero tendenza forte molto forte e euforia di acquisto in questo momento nei nostri preferiti non ne abbiamo oppure a ribasso la tendenza può essere short down come per esempio l'Oro l'Oro è short ribassista il Bund è short molto venduto strong sell oppure nel caso ci fosse una discesa veramente robusta tale da navigare per molto tempo sui minimi di giornata si vedrebbe panic selling quindi io ho una qualità della tendenza che può essere assente e in questo caso le linette le celle qui dentro si svuoteranno perché non ci sarà una tendenza tale da generare segnali operativi interessanti e quindi avrò un'indicazione importante non operare sul DAX piuttosto che sul petrolio perché non è il caso perché in questo preciso momento non c'è mercato non c'è mercato nel senso non che non ci sono scambi non ci sono scambi significativi all'interno di una tendenza quindi ho la tendenza long o short ma ho anche la sua qualità buona molto forte eccessiva la macchina invia dei segnali long e short in base alla tendenza anche più volte in questo momento l'ultimo segnale long è stato dato 11.527 su DAX andiamo a vedere dove sta 11.527 eccolo qua qua la macchina però che cosa anche dice ti dà un riferimento importantissimo non solo ti dà due target target 1 target 2 il primo target a 5.46 già beccato il secondo target a 5.98 per poco credo che ancora non ci siamo vedi eccolo qua in ogni caso noi potevamo tranquillamente avere la possibilità sul target 1 intanto di prendere profitto con i CFD è anche possibile farlo perché si dimezzano le posizioni non come nei contratti dei future che se ce n'hai uno o ne vendi uno o ne compri uno ma non puoi dividere l'operazione a metà secondo la macchina ti gestisce e ti dice dov'è lo stop loss perché ti dice che lo stop è qua quindi se sei entrato a 5.27 ti mette lo stop a 5.41 te lo mette te lo segnala perché la macchina bene dirlo in questa versione che è la prima a cui seguirà subito una seconda non è ancora settata per fare trading automatico dà degli automatismi lavora con degli automatismi è un trading system vero e proprio ma l'operatività poi è lasciata alla discrezionalità della persona ti dice anche un'altra cosa ti dà anche un livello sul quale eventualmente chiude l'operazione ovvero c'era un target a 5.46 il target è stato preso il mercato adesso potrebbe fare 5.98 noi possiamo anche decidere siamo a metà 5.74 75 fra il target di 5.98 cioè tipo 600 e 5.46 sai che c'è sono a metà posizione io chiudo perché sono comunque una parte alta del range all'85 vedremo poi cosa è il caso di fare in base alle indicazioni che ci dà la macchina ma posso anche dire ok tengo il trailing stop con grande attenzione al fatto che dove c'è il trailing stop perché questo stop vedete è superiore al prezzo di carico quindi è già un trailing ho anche indicazioni di reverse ovvero attenzione se i prezzi scendessero sotto 543 11.543 beh è chiaro che la giornata si reversa ovvero il trend di rimbalzo della giornata comincia a diventare un trend invece di riapprofondimento sui minimi che in questo caso il grafico mi dice che sarebbe tanto più probabile quanto proprio perché minimi della seduta vedete non di ieri ma la seduta di swing precedente sono in questa zona quindi il mercato mi ha individuato la macchina mi ha individuato anche un livello molto molto interessante su cui poter andare a lavorare e non è poco al tempo stesso la macchina mi sta dicendo la tendenza è forte rialzista strong buy ma io ti darei un consiglio riduci mentre l'aerostox per esempio prendiamo il grafico di aerostox qua giusto per fare un esempio per il momento ti ha fatto entrare a 3.232 è meno forte l'aerostox e il dax perché il dax sta all'82 lo sta al 71 lo stop in questo momento è messo in pari dove c'è più forza quindi il mercato adegua in trailing e stop l'operazione sia rialzo che ribasso dove c'è meno forza vedete adesso l'aerostox da 71 è andato a 77 ha rimbalzato un poco e la macchina ha già adeguato il trailing e stop vedete che il trailing e stop è dinamico non dovete perdere più tempo quindi vedete che dal 75% in su del range la macchina comincia ad adeguare il trailing e stop c'erano due target 3.238 e 3.251 li ha presi vediamo un po' 51 per poco non è stato preso 38 è stato preso ecco allora uno poteva tranquillamente mettersi l'uscita a 38 metti il trailing e stop a 32 nella migliore dell'ipotesi o nella peggiore a secondo dei punti di vista applichiamo il ragionamento di Gioros voglio che il mercato mi paghi per continuare a starci dentro il mercato dice anche attenzione a 3.236 metti comunque una soglia di attenzione allarme perché c'è il cambio di tendenza un'altra cosa carina che la macchina fa è che mentre tu sei in un trend in questo caso il rialzista ti segnala un'operazione di controtendenza cioè ti dice nel caso tu volessi fare uno short non ti metterà a fare uno short adesso ma piazza uno short a 3.245 con stop a 3.248 e target a 40 non è detto che sia il caso di farlo la macchina però ti segnala anche dove andare a fare il pierino dove andare a fare quello che io per tanto tempo ho fatto cioè il saputello di individuare i livelli di shortare e non è poco ci sono però tutta una serie di altre informazioni come abbiamo visto prima il prezzo di equilibrio della giornata la giornata è a rialzo al di sopra per quanto riguarda per esempio il DAX torniamo qua di 11.513 cioè il DAX è rialzista da qua questo prezzo ve lo trovate scritto già la mattina alle 8 quando apre il mercato non c'è bisogno che il mercato si apra non c'è bisogno che voi dobbiate far ragionare la macchina su far creare un po' di range dalle 9 alle 10 no no questo appena alle 8 cioè il primo scambio subito si illuminano queste caselle né un'altra cosa la macchina vi dà anche il top e il bottom cioè il massimo veramente pazzesco il minimo pazzesco previsti per la giornata quindi nel caso che la giornata proseguisse a rialzo non sempre così a 11.642 c'è un massimo questo nelle giornate che salgono molto aiuta a gestire i trade anche con i trailing stop e a chiudere monetizzare le operazioni perché molto spesso sono giornate che superano questi massimi ma spesso ho notato che quando si superano i massimi o a ribasso quando si superano i minimi vedremo adesso con l'euro dollaro è piuttosto probabile che poi il superamento di questi massimi a un certo punto venga ritracciato quindi di informazioni ce ne sono molte il prezzo al di sopra al di sotto il quale si qualifica l'andamento della tendenza il prezzo di reverse cioè quello che inverte la tendenza in tra dei ma poi c'è un'altra cosa c'è una sorta di piccolo lapidari sentiment vedete che c'è questo riquadro marroncino institutionals voi sapete che ho la fissa della mano primaria bene ultimo prezzo di entrata della mano primaria è 11.533 questo è un algoritmo proprietario ho clonato una parte di lapidari sentiment e l'ho buttato qui dentro cioè la macchina mi dice che a 533 un po' al di sopra dell'ultimo segnale long che è 527 sono entrati i big che hanno stop and reverse quindi hanno loro stop a 519 quindi mentre noi trader intraday abbiamo lo stop più alto del prezzo di entrata i trader istituzionali che lavorano meno sui time frame corti che guardano più lo sviluppo del tempo e che spesso attendono la chiusura per chiudere le proprie operazioni hanno ancora lo stop al di sotto questa è un'indicazione long l'indicazione di long è più tranquillo vedete anche sull'eurostock sono entrati a 38 l'eurostock in questo momento sta a 3241 e lo stop ce l'hanno a 230 abbastanza vicino a questo qua quindi avere un segnale dove sono le posizioni istituzionali che per esempio sul Bund sono short da 163 e 17 quindi da qua mica tanto e hanno lo stop a 163 e 29 vi aiuta nel caso vogliate andare short a sapere dove una macchina costruita da uno che permettetemi di poterlo dire con estrema tranquillità conosce abbastanza bene le modalità di ragionamento di chi fa questo lavoro per professione beh credo che sia un'indicazione estremamente interessante quindi gli istituzionali normalmente entrano con più calma non entrano veloci come vi fa entrare la macchina a voi ma vi aiuta molto la gestione del loro training desktop a sapere dove sono i livelli di chi in questo momento ha in mano il mercato quindi avere questo indicatore proprietario e avere questi altri due indicatori proprietari quando S1 è maggiore di S2 stai dentro l'operazione al massimo riduci ma non uscire quando Bund vedete meno 0,58 meno 0,16 S1 è sotto S2 considerateli come fossero due medie mobili questo vi aiuta e quando invece non c'è ancora una particolare prevalenza dell'uno dell'altro il trend è rialzista sul nostro mercato ma non c'è gran forza vedete infatti che noi siamo al 51% il range contro un DAX e un Eurostox rispettivamente 82,71 la macchina comunque ti fa stare in posizione ma ti gestisce opportunamente in questo caso vedete però che si è illuminato di giallo il campanellino d'allarme del nostro FIB perché nonostante che siamo ancora da stare dentro al trend si è girato già in reverse questo è un segnale che la debolezza di Borsa Italiana siete entrati a 18,6 53 si è girato a 6,73 dopo che è andato a 7,40 il primo target è già stato raggiunto il secondo non è stato raggiunto perché è a 7,52 contro il massimo di oggi contro 7,81 vedete già qua c'è da stare molto 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 attenti quindi ci sono molte informazioni che questa macchina ti dà tantissime informazioni quindi quali possono essere i vantaggi di questo tipo di strumento è molto veloce da adeguarsi al mercato ve lo potete personalizzare come volete e adesso vedremo come è flessibile nel senso che la personalizzazione vi permette di togliere uno strumento che non vi interessa più seguire in watch list e averne subito un altro vi risparmia molto stress tempo e fatica perché fa tutto lei una volta che in 10 minuti l'avete programmata e ti fornisce soltanto le informazioni necessarie prezzo di entrata stop o trailing stop un paio di target prezzo in cui cambia la tendenza prezzo che identifica la tendenza della giornata massimi e minimi della giornata dove sono quelli che vogliono farti il mazzo non è poco ti evita quindi una ridondanza di grafici di dati di tanti grafici bellissimi e molto pieni di indicatori e soprattutto ti gestisce l'incertezza dove entro dove esco dove lo metto lo stop è tutto scritto qua nella buona sostanza permettetemi una battuta che spero non sia presuntosa per chi ascolterà questa registrazione avete il metodo lapidari la testa di lapidari 24 ore su 24 7 giorni su 7 sul vostro pc chiaramente non ci fermiamo qua assolutamente non ci fermiamo qua nelle prospettive future questa macchina nella prossima versione su cui già stiamo lavorando questa sarà la 1.0 tra poco poi usciremo con la 2.0 la macchina sarà in grado per chi vuole anche di inviare chiaramente su metatrader 4 poi lavoreremo per la 5 e con il proprio broker segnale anche di trading automatico che potranno essere gestiti in totale autonomia come già si possono gestire un'autonomia questi perché vedete su questo grafico che c'è qua abbiamo messo una schermata che permette cliccando sell buy indicando la quantità che volete e indicando anche un'altra cosa interessante quanti punti di stop e quanti punti di target volete di fare operazioni direttamente shortando o vendendo dollaro yen e non è poco e non è poco potremmo mettere su questa macchina anche segnali mutuati da linguaggio che io uso sull'area riservata del mio sito lapidari.it anche di ciclo e di tendenza più lunga quindi settimanali e mensili introdurremo anche poi delle tabelle per aiutarvi col money management e probabilmente sulla macchina svilupperemo ancora di più il linguaggio del lapidari sentiment e tutte le opportunità che l'indicatore lapidari sentiment mette a disposizione nel frattempo come vedete su dollaro yen in manuale siamo entrati in buy con già uno stop loss caricato dentro e già un take profit caricato dentro quindi per chi fa solo uno strumento appoggerete la macchina direttamente sul grafico di un solo strumento e ve lo potrete gestire da qua e in quel caso ve lo potrete chiudere autonomamente vedete che abbiamo chiuso l'operazione lasciamo stare siamo in demo quindi non ci interessa se è stata chiusa in positivo o in negativo quello che vi può dare questa macchina è una cosa molto carina con questo pulsante che se fate 10 operazioni diverse sul dollaro yen ve le potrà chiudere con un semplice tasto tutte 10 e quando nella prossima versione avremo la possibilità di mettere nella casella qui position tutte le posizioni aperte di qualunque strumento con un solo tasto che vi metteremo qua vi chiude tutti i trade aperti a questo punto vediamo come si carica la lapidary dashboard su una qualunque piattaforma mt4 e come si settano i propri strumenti preferiti come si carica una lapidary dashboard sul vostro terminale mt4 la prima cosa che fate dovete prendere il software che vi mando io e andare in apri scheda data cliccare su mql4 experts e mettere dentro il software qui direttamente dopodiché andate su navigatore andrete nella parte dei consiglieri esperti e senza chiudere la piattaforma e poi riaprirla fate aggiorna a questo punto un nuovo qualunque nuovo indicatore che sia un oscillatore che sia in questo caso un expert advisor sarà già aggiornato sulla piattaforma immediatamente richiamabile a questo punto lasciate il navigatore qua aperto per un attimo e prendete un qualunque grafico che possibilmente non finisca di scambiare come il nostro mercato alle 5 se no altrimenti la macchina ospitata su una schermata grafica si aggiorna in maniera più lenta quali sono quindi i grafici che lavorano 24 su 24 non ci danno problemi sono quelle delle valute quindi prendete un euro yen un euro dollaro uno stendere a dollaro io di default ormai mi sono abituato uso dollaro yen quindi cosa faccio finestra grafico apre finestra grafico mi piace avere un formato più chiaro e uso questo a questo punto mi stringo il grafico così ho qua la mia lapidare dashboard qui io chiaramente ho lavorato in fase di sviluppo quindi ho molte operazioni clicco su lapidare dashboard e faccio attacca al grafico a questo punto si apre una finestra di schermata dove ci sono i setting che voi volete mettere io ho messo una prima lista sono i favorites i preferiti poi ci sono indici cioè i CFD su indici piuttosto che altri strumenti poi forex poi commodities la macchina può lavorare fino a 40 strumenti finanziari diversi quindi avete 10 strumenti fra i vostri preferiti cioè quelli che normalmente comunque guardate con continuità durante il giorno che possono essere presi o come no dagli indici per esempio vedete che nei preferiti non c'ho UK100 l'indice inglese non c'ho il Nikkei JP225 scadenza marzo 2017 e non c'ho il Russell attenzione a come sugli expert advisor scrivete perché dovete rispettare maiuscole e minuscole e scadenza precisa altrimenti le macchine non vi prendono i segnali per il forex tutto maiuscolo per le commodities e io ho messo una striscia posso mettere ancora altre 10 commodities gold silver rame petrolio gasoline eccetera eccetera e uno se le può scrivere come vuole per il resto non dovete toccare niente non dovete scrivere niente non dovete fare niente è tutto già fatto permette di compravendere in tempo reale quando avrete la funzione che vi abiliterà il programma dopodiché fate ok a questo punto la macchina è già caricata dentro il grafico però in primo piano ce l'avete fra le scatole vi dà noia guardate sul proprietà del grafico levate il grafico in primo piano e il grafico non c'è più vi dà fastidio questa schermata del dollaro yen perché tanto non comprerete dollaro yen cliccate qui sopra la schermata del dollaro yen andrà a sparire vedete infatti che l'abbiamo tolta così come potete togliere vedete che c'è una X qui sopra anche delle cose che non volete vedere sui vostri grafici non volete per esempio vedere l'aggressive trading cioè l'operazione in controtendenza su quella macchina da un target uno stop perché ogni tanto sparisce quando non è il caso di andare in controtendenza e qui sul DAX non sembra il caso perché siamo comunque molto forti quindi vi dice guarda è molto forte ma proprio per questo evita di fare stupidaggini finissimo cancellate pigiate una X e dopo un po' vi andrà a sparire la finestra aggressivi trading vedete che è sparita dopo di che uno clicca due volte e la finestra può ritornare indietro rifacciamo di nuovo vedere i procedimenti in cui si possono togliere delle colonne questo non mi interessa via questo non mi interessa via lo rivolgo rivedere questo si non mi interessa sapere l'ultimo prezzo perché lo vedo dal grafico o dalla vista del mercato non mi interessa questo la macchina lavora lo stesso via non mi interessa degli indicatori perché voglio soltanto i segnali di prezzo via potete togliere mettere tutto ciò che volete questi tasti che sono qui accanti serviranno quando ci sarà la modalità di trading automatico per chiudere qualunque operazione aperta sui singoli strumenti della vostra watch list fino adesso vi ho fatto vedere la macchina su una piattaforma metatrader by active trades ma come vedete questo è un conto di un altro broker si chiama Ticmill la cosa diversa rispetto all'active trades Ticmill lavora i CFD sull'indice quindi D30 è un CFD non sul DAX e Future ma sull'indice DAX sull'indice Eurostox 50 sullo Smith Svizzero su Italy 40 cioè sull'Italia questi sono gli indici quindi i prezzi cambiano cambia assolutamente zero la modalità matematica vedete c'è qualche punto in più il punto è la notazione inglese a posto delle virgole e quindi gli spazi sono un pochettino più riempiti non cambia nulla ovviamente tutto il resto che si può fare nel senso che si cancellano tranquillamente e si rimettono tutte le nostre cose cosa importante però che cos'è andando dentro la maschera in questo caso io vado a digitare i nomi diversi anche se qui per esempio al posto dell'oro che avevo messo come prestampato come maschera mettete stellina dollaro non vi preoccupate digitate GBPUSD e la macchina vi carica al posto di oro GBPUSD quindi qualunque cosa andiate a scrivere potete tranquillamente personalizzare i vostri preferiti gli indici che meglio seguite e le valute forex che seguite qui ci sono 10 valute forex per esempio commodities non ce ne sono perché su questo broker le commodities almeno nel contodemo che ho settato non ci sono ove ci fossero potete tranquillamente andare a prenderle vi darò comunque se volete una versione con tutti i simboli in bianco anziché quelli che uso io dopodiché ognuno di voi potrà mettere quelli che preferisce anche se credo che per il 90% di trader i simboli possano essere questi mi sembra tutto abbastanza chiaro no? quindi visualizzate navigatore andate a cercare lapidari dashboard prendete per esempio questa attacca il grafico in questo caso la vado a sostituire e che cosa vado a fare? in questo momento mi ha cambiato il numero di conto non è ancora quello settato a riprova del fatto che abbiamo costruito un sistema ovviamente che installerà la dashboard previo pagamento su piattaforme identificate con quella licenza e con quel numero di conto a questo punto è chiaro che è settata ancora con i vecchi simboli di active trades e quindi bisogna entrare dentro e cambiarvi tutti i simboli ma noi possiamo fare un'altra cosa caricare già un simbolo che abbiamo chiamato base sulla parte MQL4 dei preset di TIC1000 adesso vediamo che succede e vedete che su TIC1000 ho ricaricato tutti i simboli quindi si fa un lavoro all'inizio di settaggio dei simboli degli strumenti finanziari che voi seguite con i nomi che sono dati dal vostro broker lo salvate all'interno di una cartella che è la cartella MQL4 presets io l'ho chiamato base poi potrete cambiare altri tipi di piani di watch list e nel momento in cui voi richiamate questo tranquillamente carica ok penso di avervi detto tutto 38 minuti di video penso sia stato abbastanza non vi insegno le tecniche grafiche perché le sapete ovviamente molto meglio anche di me auguro a tutti buona giornata e www.lapidari.it info chiocciolapidari.it per ulteriori spiegazioni e approfondimenti buona giornata a tutti